È un ospedale che cresce, un nuovo pronto soccorso, quasi 2 milioni di euro di investimenti e ancora servizi per i cittadini di Bassano. Eccolo il rinnovato pronto soccorso del San Bassiano, completamente rivoluzionato e adeguato a misura di paziente, con un occhio particolare di riguardo alle fasce più fragili. Stanza per stanza il vecchio pronto soccorso progettato negli anni 80 e utilizzato fino a ieri sostanzialmente è stato rifatto completamente e in più è stato ampliato, è tolto quella specie di vicolo che c'era per l'entrata in ospedale con questa nuova costruzione che aggetta verso l'entrata e che è la nuova sala d'attesa. C'è un ampliamento che in metri quadri sono circa 120 metri quadri di ampliamento su 1600 totali, però dentro è avvenuto una vera e propria rivoluzione. Un fiore all'occhiello e lo stesso presidente del Veneto Luca Zai ha sottolineato l'importanza del lavoro sinergico in rete, nello specifico tra i due distretti dell'Ulss 7 Pedemontana. In un'ottica divisione dell'intera Ulss con Asiago, Bassano e Sant'Orso. Abbiamo autorizzato altri 5 primariati tra Bassano e Sant'Orso. Investiamo oltre 70 milioni di euro all'anno in tecnologie, pensi solo che il Veneto è l'unica regione in Italia dove da quando ci sia noi si fa la chirurgia robotica in ogni sede provinciale, nel caso di Bassano in ogni hub provinciale. Questo per dimostrare che siamo all'avanguardia tecnologicamente, lo siamo con le risonanze, con le tacche, con molte strumentazioni che addirittura hanno l'esordio europeo per primi in Veneto e quindi questo dà una dimensione anche della qualità della diagnosi oltre che delle cure che facciamo. Percorsi mirati si diceva all'interno di un totalmente rinnovato pronto soccorso che registra 60 mila accessi all'anno, 8 mila missioni SUEM con una media di 180 persone al giorno trattate, 11 medici, 6 informazioni, 45 infermieri attivi con stanze specifiche. Dal triage direttamente si accede al percorso per gli infettivi o sospetti tali che comunica direttamente con la shock room per cui qualora poi si verificasse che il paziente magari con mal di testa e cefalea avesse veramente una meningite, quell'area financo alla shock, qualora il paziente si scioccasse, può andare a persona negativa e quindi è completamente isolata dal resto del pronto soccorso. Percorsi per gli anziani fragili, identificazione della fragilità fin dall'inizio fino alla demissione protetta. Percorsi per i bambini attraverso una stanzetta come una piccola cameretta. Il percorso viola, lo abbiamo chiamato, che è dedicato a una zona per la donna che ha sopito violenza. Insomma ci sono tutti i presupposti per un gran lavoro di primo soccorso adesso di Chiara Zaia. La sala da te deve essere sempre vuota, vuol dire che il pronto soccorso funziona.